Il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Arezzo sabato 2 settembre si è aperto alla musica classica per For Love, il concerto della pianista americana di origine coreana Su Song. Questa sera abbiamo avuto uno straordinario affluenza di persone in questa splendida cornice, la sala delle musee di questo museo. Mi ha sorpreso, vuol dire che la gente vuol partecipare. Quando ci sono momenti di difficoltà, come in questo momento in città, la gente sta più insieme, vuole stare più insieme e la cornice musicale è la cornice degna che riunisce tanta gente. È molto importante perché questa è la mia passione, come la musica, perché il mondo, il mondo, non capiscono. E vorrei dire che noi abbiamo bisogno di fare qualcosa insieme, la differenza non è male, la differenza è normale e la differenza è una cosa bella, anche possiamo fare le cose più grandi insieme. L'apertura straordinaria del museo si è inserita nel ricco cartellone di eventi dal titolo Scopriamo i musei offerto dai musei statali dell'Aretino nel periodo compreso dal mese di agosto alla metà di ottobre che fa parte del piano di valorizzazione 2017 del patrimonio culturale promosso dal Ministero dei beni e delle attività culturali del turismo. Il museo medievale, come è noto, attraverso un periodo di grandi difficoltà, proprio per i numeri che mancano, ma c'è molta voglia e noi con l'aiuto dei volontari di fraternità stiamo cercando di portare avanti quello che poi sono il patrimonio e le bellezze della comunità aretina, quindi il mio invito è quello appunto di non lasciarci soli.